e benvenuti ragazzi questo è il mio ultimo video e niente inizierò con come si possono vedere diciamo i video anche appena usciti su un sito della cineblog01 che finemmo non si potevano vedere però ho trovato un truccatto per appunto vedere come vedete questi film per esempio prendiamo il canto degli oscar va bene non so se questo è bloccato ecco allora vediamo questo coliceo che si trova questa cosa si deve fare in blu ecco vedete che c'è qua mettete il video riscacciate il video riscacciate così e poi batte il video cheakè il film Guardate Vediamo come tiriamo Morte Non più parte E questo è tutto Al prossimo video Ciao